Oggi parliamo di put off, che non è una brutta parola in spagnolo, put off, put off, ma è un phrasal verb e lo troviamo all'inizio del film The Kissing Booth 3, che purtroppo, signori, è al primo posto su Netflix. La voce fuoricampo dice, che cosa vuol dire? While, mentre, ero indaffarata nel rimandare, rinviare, quello vuol dire put off, la decisione praticamente su quale college scegliere, perché lei aveva due opzioni. Perché usa to put off? Ma appunto vuol dire rinviare, rimandare in questo caso la decisione, perché non ne ha voglia, quindi non ci sono altri motivi, non è che la sta rinviando per altri motivi, la sta rinviando perché non ha voglia di prendere questa decisione. You cannot put the decision off any longer. Che cosa vuol dire? Non puoi rimandare ancora questa decisione, cioè devi prendere la decisione adesso.